il primo giro non avevo visto che c'era cosa che s'abbassava un barapetto un barapetto lo potevano mettere davvero uomini come messo a batteria a zero e rosso ma è giusto dopo lì abbiamo appena fatta fin quando va va e guarda che parte si 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti